Musica Vediamo, rabbia, il montaggio del teleprompter By Leventi O Liventi, non so adesso come si Apriamo Vediamo cosa c'è dentro Abbiamo già visto un radio unboxing Andiamo a montare Velocemente Vediamo Informazioni Reggi telefono, vidini Insomma Clips, telecomando Qui Allora Poi la struttura Il reggi Tutti i vetri Con, diciamo, i pianali E poi Il Sette Il telo Il telo Nero Andremo a vedere dopo Allora Intanto Spedicoliamo Il cosetto dove c'è anche Il manuale c'è sul canale YouTube Qui poi passo Vi passo l'url Insomma Il canale si mette a fuoco YouTube Vediamo Allora Ci sono Poi Il telecomandino Ci servono Le grippette E ora Vediamo Questi vitini A pressione E E Mettiamo Qui Il telecomandino Alto Pianale Superiore Dove andrà In questo pianale Andrà A Diciamo Vedete In base Alla Longchezza Insomma O la dimensione Della Della Camera Telecamera Telefono Insomma Andremo a mettere Allora Lo posizioniamo Anche subito Eccolo qui Allora Lo montiamo Eccolo qui Vedete Vedete Il vetro montato Poi Prendiamo L'altro vetro Lo spellicoliamo E' di Scorta Prendiamo Il telo Nero Posizioniamo Eccolo qui Prendiamo Le due Due clip E lo mettiamo Sopra Qui Al vetro Ecco qui Poi Poi Facciamo Ed eccoci qui Montato Il nostro Teleprompter Poi Poi Un rapido Un rapido Nel nostro Telecomando Dove andremo Ad abbinare Joystick Andremo Ad abbinare A fuoco A fuoco A fuoco Stick E i vari Tasti Andremo A abbinare Allo bluetooth Del telefono Allora Shop now Più Così si Si presenta La cosa Il titolo Scriviamo Il titolo Prova Prova Di 20 Fini Ok Andiamo Su Andiamo Tgcom Gravaglia Allora Copiamo Questo Testo Andiamo Sull'applicazione Ok Ci siamo Salviamo Allora Prova Di 20 Qui possiamo Vedere Rieditare O cancellare Vedere E andiamo Sulla Eccola qui Già è partita L'applicazione Andiamo Sull'impostazioni E allora Il font Mettiamo Mettiamo Un black Rosso Nero E rosso Poi Qui possiamo Vedete Aumentare La La grandezza Delle parole Possiamo Poi Questa è la velocità Dello scorrimento Queste sono I margini Vedete Di come Passa Poi L'ho specchiato A metà Al contrario Queste sono Il marker Diciamo Che indica Sempre la parola Dove leggere Vabbè Il loop Script E l'orientamento Sono Sempre Nello stesso Giro Partiamo Setting Poi Poi andremo A mettere Sul teleprompter Sul teleprompter Salve a tutti E bentornati E ritornati Amici del Tupo Dal vostro Perché vita Dal futuro Oggi Siamo qui Per presentare Il teleprompter Della Levanti Un globo elettronico Per migliorare Professionalmente I miei video O i vostri video Questo prodotto E mi è stato Mandato In Italia Avanti Perciò Questo video In collaborazione Testeremo Questo Globo Portatile Molto leggero Nella conformazione Strutturale Semplice E veloce Da montare E usare Per fare Un bel video Professionale Io Sono abituato A girare I miei video Detto in gioco Insomma Abbraccio Però Senza Nessun testo Ma oggi In questo contesto Dovresti Vedermi E sentirmi Senza Sbavature Parlate In modo Corretto E filante Andiamo A largo Due E vediamo Velocemente Il tetrombra Dove Ho montato La mia Sony ZV1 Dentro La parte Sopra Paneale Superiore Avvitata E il gioco È quasi Fatto Poi Con le App Avanti Sul nostro Dispositivo IOS O Iopad OS Il gioco È fatto Un saluto Dal vostro Eric Vida Se vi è piaciuto Il video Mettetemi Un like Iscrivetevi Al canale Accendete La campanella A seguire Anche su Instagram Eric Vida 2020 E su Telegram Per Dere offerte Da non perdere Su Affaroni Tech Punto Com Metto Tutto Il link Descrizione Un saluto E al prossimo Video Iscriviti Tore 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 Grazie a tutti.